L'acqua come bene prezioso da salvaguardare e proteggere dall'incuria dell'uomo. La salute con l'acqua è il titolo del libro realizzato dall'oncologo Claudio Pagliara, ma anche il nome scelto per la due giorni ospitata nello scorso fine settimana da Lido Menea a Barletta. Pagliara è stato uno degli ospiti del convegno organizzato dall'Associazione Liberi dalla Plastica con il contributo di Lega Ambiente del Comitato Permanente della Protezione Civile della Regione Puglia. Obiettivo della due giorni d'incontri è stato proprio quello di comprendere l'importanza dell'acqua come risorsa dal valore inestimabile. L'acqua ha un ruolo fondamentale per la promozione della nostra salute e per il recupero della nostra salute. Ha un ruolo fondamentale anche nella lotta contro il cancro, sembra strano ma è così. Esiste molta disinformazione e molta confusione e questo succede generalmente quando ci sono potenti interessi economici in campo e quando gli interessi sono così potenti la verità fa veramente fatica ad emergere. Ma l'acqua è un elemento veramente prezioso e fondamentale per la nostra salute. Nella due giorni Barlettana si è parlato dell'acqua in tutte le sue sfaccettature. Inevitabile il riferimento all'inquinamento delle acque provocato dalla plastica, il cui contrasto è l'obiettivo numero uno delle iniziative dell'Associazione Liberi dalla Plastica. Dobbiamo fare qualcosa per questo pianeta, non abbiamo un pianeta di riserva. Un pianeta malato, inquinato, sono persone malate e inquinate. Il nostro scopo è quello di togliere la plastica con delle piccole iniziative che stiamo facendo i vari comuni d'Italia, facendo in modo che le persone usino l'acqua del comune e con delle tecnologie la rendiamo migliore e facendo delle campagne di sensibilizzazione perché dobbiamo fare in modo che questo pianeta non lo peggioriamo perché peggio di così non si può andare. La salvaguardia delle acque è stata nel corso di questi anni una delle priorità della Regione Puglia e su questo aspetto si è soffermato il candidato al Consiglio regionale, Ruggero Mennea. La Puglia abbia una ricchezza straordinaria, diversamente dagli altri regioni. Abbiamo l'acquedotto pugliese che è uno dei più grandi acquedotti d'Europa e che fornisce l'acqua a tutti i cittadini pugliesi. Ecco, probabilmente è arrivato il momento di valorizzare questa risorsa naturale e dare più qualità a questa risorsa perché nell'accezione comune è passato sempre quel messaggio di un'acqua che non si deve bere, che non si deve utilizzare e quindi si ricorre ad utilizzare altri tipi di acqua. Io penso che questa risorsa è un bene prezioso che dobbiamo valorizzare sulle nostre tavole.